Abbiamo trasmesso da Maggiore la telecronaca diretta del Trofeo delle Nazioni di Motocross, telecronista Federico Urban, regista Gino Goti, e da Piediluco la telecronaca diretta delle fasi conclusive del campionato italiano di canottaggio, telecronista Riccardo Cucchi, regista Luigi Liberati. In collegamento diretto con Asti trasmettiamo il Palio, rievocazione storica in costume per le vie della città, seguito dalla sfida in campo del Palio tra i fantini dei vari rioni su cavalli montati a pelo, cioè senza sella. Telecronista Carlo Cerrato, regista Bruno Cambarotta.